Sì, buongiorno a Livorno, a proposito di primo giorno di scuola, tanti ragazzi che stamattina sono andati a scuola, poi dopo la fine delle elezioni sono venuti a lavorare per continuare a togliere il fango dai luoghi colpiti dal nubifraggio che ha centrato Livorno nella notte fra sabato e domenica provocando, come ricordiamo, otto vittime e le vittime di questo nubifraggio non sono soltanto le persone ma sono anche il tessuto produttivo di questa città, la sua economia, una parte importante di quella che è la sua economia che è l'economia agricola, l'economia floraviveistica, dove ci troviamo è un'azienda, una delle tante aziende che sono state devastate dal nubifraggio, una devastazione importante, danni pesantissimi ma ci sono addirittura aziende che sono letteralmente state spazzate via, sono scomparse. Ecco, in queste aziende vediamo tanti di questi ragazzi che stanno lavorando, che sono tornati a lavorare, ne abbiamo alcuni qui in questa sera dove stanno cercando di ripulire dal fango, stanno togliendo quello che in questo momento ancora imprigiona le strutture ed è il primo passo per tornare ad una normalità. Dalla parte opposta, se Luca Gabanelli può passare da quel lato a inquadrare quell'altra parte dell'azienda, vediamo che c'è un'altra parte di giovani, di ragazzi, li hanno chiamati tanto tempo fa angeli del fango, che stanno continuando a lavorare, a sgombrare dal fango questa azienda e questo si sta verificando in tantissime, tantissime altre aziende del Livornese che sono state colpite dal nubifraggio. Ma che cosa è successo? Questa mattina ve lo raccontiamo in un contributo che abbiamo raccolto e che vi proponiamo adesso. A Livorno, dopo il nubifraggio che ha messo in ginocchio la città, levando la vita ad otto persone, si cominciano a guardare i danni. Sono decine le aziende colpite, alcune nel comparto agricolo sono distrutte, altre come questa dove ci troviamo hanno avuto danni gravissimi. Guardate, il fango ha spazzato via tutto, queste una volta erano le caldaie per riscaldare le serre, adesso sono solo dei rottami. E questa mattina a Livorno è arrivato il Presidente nazionale di Coldiretti per un sopraluogo nelle aziende colpite. Avete una stima anche approssimativa di quello che è il danno? Stiamo parlando di almeno 4 milioni di euro di danni, ma la stima ovviamente è in itinere perché siamo nelle ore in cui si cerca di tornare manualmente alla normalità. Cosa chiedete dal Governo? Qua è importante mettere in campo tutte le misure possibili, dal fondo di solidarietà nazionale previsto dalle leggi nazionali in queste situazioni, fino alle risorse possibili per i piani di sviluppo rurale, fino a tutte le misure che può mettere in campo la protezione civile in queste situazioni. Si poteva evitare una cosa di questo genere, secondo voi, con una politica diversa dal territorio? Beh, intanto si tratta di non guardare solo alla necessità di pulire i tombini nelle città, ma qui c'è da fare un ragionamento di tutto il territorio nel suo insieme. Il cambiamento climatico arriva dopo 25 anni in cui abbiamo perso il 28% del terreno coltivato. Siamo i minimi storici dall'Unità d'Italia, allora bisogna ritornare a gestire il territorio, ritornare a gestire il reticolo idrografico, i canali, i fiumi, ritornare ad avere politiche forestali che consentono di tenere il territorio manutenuto, altrimenti non siamo nelle condizioni di gestire queste bombe d'acqua.